Il mio documento, la Banca Centrale Europea deve fare il land of last resort, deve per primo convincerti, convincersi che il debito pubblico italiano è solvibile e quindi lo spread dovrebbe andare zero. Com'è possibile spingere lo spread che va a zero? Se c'è un attacco speculativo tu intervieni in acquisto dei titoli. Beh, un pochino Draghi l'ha fatto. L'ha fatto, e lei ha detto che finché Draghi sarà là l'Italia sarà tranquilla. Questo l'ho detto dopo, non ho detto proprio questo insomma. Ho detto, lui capisce, è una persona che capisce, che ha mostrato il saper reagire. Quindi non ha nessun interesse che l'Italia e il debito pubblico italiano entri in crisi, prima o dopo darà una risposta. Ma non è che io conto su questa risposta, io conto sulla nostra risposta, sulla capacità di far partire gli investimenti e quindi se partono gli investimenti abbiamo un maggiore sviluppo. Il maggiore sviluppo consente di ridurre il rapporto debito pubblico PIL e rafforza la assolvibilità del debito pubblico italiano che non è in discussione. Io ritengo che lo spread debba scomparire, sia attivando strumenti monetari appropriati, come fanno tutte le banche centrali del mondo, e sia consentendo al Paese di svilupparsi. E per svilupparsi ha bisogno oggi di fare un deficit del 2,4%. Noi adesso.